3 marzo 1943. Nasce a Castelboglione Enzo Bianchi, religioso e scrittore, fondatore della comunità monastica di Bose. La comunità, nata nel 1965 in provincia di Biella, raccoglie monaci di entrambi i sessi e di diverse confessioni religiose ed è tuttora un esempio di dialogo perfettamente riuscito fra chiese diverse. Grazie per la visione!